Appena tornato ho visto l'addio del mitico Ibrahimovic che è anche un addio al calcio e devo chiedere scusa a Ibra perché lo ammetto, fino a pochi anni fa non sono mai stato un suo estimatore non mi piaceva come persona, poi sì come calciatore per carità ha grandi qualità però si vedeva che era uno da campionato, non magari adatto a poter vincere una Champions o comunque far vincere un mondiale, un europeo, infatti anche con la Svezia non si ricordano grandissimi risultati però quello che ha fatto quando è venuto nel 2020 gennaio 2020 dopo il famoso 5-0 che mi ha preso a Bergamo è qualcosa di unico, irripetibile quasi è una roba descrivibile per noi milanisti, non possiamo che rendere atto a questo grande giocatore quindi grandi scuse per come l'ho trattato in precedenza e soprattutto un grande grazie per quello che ha fatto negli ultimi tre anni e anche non solo, anche per quello che ha fatto prima sia come giocatore del Milan naturalmente che anche come calciatore in generale come appassionato, come piacere per tutti gli appassionati di questo bellissimo sport almeno per me che è il calcio poi tra l'altro un 81 come me, anch'io ho avuto non sono sempre andato d'accordo con quelli della mia età ma anche a scuola infatti ho avuto spesso una vita difficile così insomma però adesso sto capendo sempre di più la mia generazione la mia, quelli della mia età, quelli nati nel mio stesso anno nel bene o nel male adesso li capisco sempre di più e forse proprio in questo momento in cui abbiamo compiuto vent'anni per due si può dire, non so, una certa età, comunque 40, 41 anni insomma diciamo che siamo cresciuti un po' tardi ma siamo cresciuti anche molto bene dai, adesso è più chiara la situazione grazie ancora di tutto Iber ci mancherai? Certo ma ne verranno altri almeno speriamo perché davvero abbiamo bisogno veramente di goderci anche nuove leve adesso abbiamo Leao che sta facendo benissimo, poi c'è il mitico Trino Hernandez e poi chi c'è? Poi tanti, vabbè c'è ancora Giu che comunque non fa per niente male e così insomma, dai, è andato bene grazie di tutto Zatan e forza mila sempre grazie a tutti